amici della pagina di facebook della regina 1914 si apre così il secondo giorno di ritiro della compagine amaranto in sottofondo l'inno ufficiale della regina che viene fatto ascoltare a tutti i nuovi calciatori calciatori che dopo gli allenamenti di ieri sera si sono ritrovati qui al campo alle ore 10 dopo le posture classico riscaldamento a secco per poi esercitazioni con la palla a guidare il nuovo gruppo arrivato alla regina sicuramente uno che nella scorsa stagione ha capito che cosa significa il valore della maglia della regina parliamo di jacopo sciavanna 12 presenze in amaranto condite da 4 gol una stagione falcidiata da diversi infortuni jacopo ben ritrovato innanzitutto partiamo dal tuo stato di salute diversi infortuni ti hanno fermato lo scorso anno come sta adesso jacopo buongiorno innanzitutto ieri ci siamo allenati e il ginocchio ha risposto bene per fortuna quindi sono sono soddisfatto ho lavorato tutta questa estate per farmi trovare pronto quindi speravo che andasse così jacopo in una recente intervista hai dichiarato che i veterani i più vecchi chiamali così gli anziani della squadra faranno capire ai più giovani quello che è il valore di questa maglia beh sicuramente sicuramente è un compito che ci spetta perché non è una piazza come come le altre insomma una piazza importante che vive di calcio è fondamentale far capire ai giovani a tutti ai nuovi che stanno giocando per un per una città però per un popolo che vive di calcio e quindi bisogna sudare la maglia sputare sangue come hanno detto direttore presidente mister pochi confermati rispetto alla scorsa stagione qua un gruppo completamente completamente nuovo completamente più giovane che gruppo è trovato in questi pochi giorni si è stato insieme sono sincero guarda sono rimasto molto molto contento perché vedo un gruppo sano tutti i bravi ragazzi predisposti al lavoro e penso che si possa fare si possa fare bene grazie giacomo grazie a te peppe